ascoltate gesù e questo non lo dice il papa lo dice dio padre a tutti a me a voi a tutti a tutti è come un aiuto per andare avanti nella strada della quaresima è una cosa buona avere un piccolo vangelo piccolo e portarlo con noi in tasca nella borsa e leggerne un piccolo passo in qualsiasi momento della giornata qualsiasi momento della giornata io prendo dalla tasca il vangelo e leggo qualcosina un piccolo passo e ci è lì e gesù che ci parla nel vangelo così papa francesco prima della preghiera dell'angelus ha invitato tutti a seguire ogni giorno la voce di dio padre rivolta pietro giacomo e giovanni sul monte della trasfigurazione per ascoltare gesù ha proseguito bisogna essere vicino a lui seguirlo come facevano le folle del vangelo che lo rincorrevano per le strade della palestina gesù non aveva una cattedra un pulpito fissi ma era un maestro itinerante come i tre discepoli noi abbiamo bisogno di andare in disparte di salire sulla montagna in uno spazio di silenzio ha concluso il papa per ritrovare noi stessi e percepire meglio la voce del signore ma non possiamo rimanere lì l'incontro con dio nella preghiera ci spinge nuovamente a scendere dalla montagna a ritornare in basso nella pianura dove incontriamo tanti fratelli appesantiti da fatiche ingiustizie e povertà materiale spirituale la parola di gesù che abbiamo nel cuore cresce quando la proclamiamo quando la diamo agli altri impariamo a salire con la preghiera quindi e a scendere poi con la carità fraterna